Sapevi che GOT Simulator 3, seppur sia un gioco decisamente cazzone, ci insegna una lezione molto importante. Per apprenderla bisogna prima di tutto salire su questo silos e cominciare a smanettare a caso coi pulsanti. Oh ma come ti permetti? Il personale non ne sarà felice, ma dopo averli mandati in pausa potremo completare la nostra opera. Come ricompensa per aver pasticciato con la console, una testata nucleare verrà sganciata sulla città, ma stranamente non farà il botto. Bisogna quindi andare subito a controllare e una volta sul posto la domanda sorge spontanea. È opportuno premere il pulsante rosso lampeggiante sulla bomba? La risposta è no. Per l'amor di Dio non toccate i pulsanti rossi che si trovano su ordigni nucleari inesplosi. Ah sì, sbloccherete anche una skin in stile fallout.